ok adesso vedete mi è scappato mentre con la penna in mano possiamo disegnare e possiamo fare con il tasto sinistro del mouse possiamo fare la nostra scrittina per esempio ciao, adesso poi tra un po' purtroppo ce la dobbiamo tenere questa scrittina e vi insegnerò come togliere anche questa scrittina, nel frattempo la primissima cosa da fare facciamo Z, togliamo questa cosa, quindi non ce l'abbiamo più ok questa scritta che ho fatto con la penna la penna è già una bella cosa perché a questo punto ce la buttiamo dunque pick up, ok, e la mettiamo magari in un posto Z, la buttiamo lì, perché adesso ci mettiamo davanti allo specchio davanti allo specchio e proviamo a cambiarci, customize quindi andiamo sullo specchio, tasto sinistro o anche tasto destro in realtà non è importante, customize e ci possiamo modificare, se noi abbiamo questa bellissima shape con questa maglietta ma noi possiamo andare qui e cercare insomma qualche cosa vedete che noi abbiamo 0R qualunque cosa siano che è la valuta e cerchiamo qua delle cose che non costino quindi non ci sia il prezzo sopra eventualmente andiamo beh andiamo qua ok vedete che quando andiamo qua possiamo decidere di indossare un cappello possiamo cambiare il colore possiamo metterci, visto che questa è una donnina gli possiamo mettere anche delle cose oh ci sono per esempio questo qui è un vestitino da donna possiamo mettere gli occhiali se vogliamo e ci sono tante cosette vedete che qui abbiamo i cappelli la fascia per la testa possiamo metterci la fascia bianca vedete che ci ha messo al posto del cappello gli occhiali possiamo mettere o degli occhiali scelti oppure la sharp se vogliamo quindi possiamo abbiamo già un pochino più di cose oppure la rec room questa qui mettiamoci la sharpina e poi abbiamo altre cose adesso qui l'abbiamo scelto prima ma va bene così e poi possiamo avere dei guanti o delle cose da metterci che sono queste quindi questo è il nostro è il nostro cosa se volessimo invece gestire l'acconciatura possiamo vedete che è un po' unisex quindi il fatto che siamo uomini e donna dipende dal dal tipo di capelli che scegliamo quindi se noi scegliamo un dei capelli così possiamo già diventare degli uomini e possiamo eventualmente metterci la barba vedete quindi siamo a questo punto di fatto degli uomini possiamo gestire il colore della pelle quindi farci più o meno bianchi vedete che già siamo siamo diversi possiamo selezionare il colore della pelle abbiamo detto possiamo scegliere la modalità del viso quindi farlo un pochino più squadrata un pochino più maschile tonda vedete che qui ci fa vedere come appariamo e poi possiamo credo che questa voglia dire ok ah si come la tonalità se siamo un pochino più tonde se siamo un pochino più clessidrine credo che siano le donnine che si è fatto così anche le donnine così oppure triangolari così diciamo che probabilmente gli uomini sono da queste parti qua e ovviamente se vogliamo a questo punto essere uomini probabilmente dovremo mettere un vestito un vestito che però ecco qui non è che ci sia tante scelte purtroppo diciamo che le cose tipiche con cui si entra sono sempre questa qui la maglietta da rec room che è quella del nubo se no questa diciamo la magliettina diciamo sbarazzina con cui andate in giro quindi torniamo ai capelli se vogliamo i capelli e la barba dunque l'appearance questa però se guardiamo su questo possiamo quindi questo qui è il colore della barba in questo caso che la facciamo ad esempio nera e poi andiamo nei capelli e facciamo il colore dei capelli neri ok quindi come vedete abbiamo ci siamo fatti l'apparenza in più possiamo se la headband in questo caso non ci piace la clicchiamo qua la togliamo e quindi siamo effettivamente a posto quindi la primissima cosa che abbiamo fatto è l'apparenza ce l'abbiamo giostrata ok quindi lo specchio nel nostro dormitorio ci fa vedere come appariamo prima di uscire ok ora le altre cose che volevo far fare in questo secondo video terzo video anzi è quello di vedere veramente insomma il menu il menu vedete in alto a destra c'è il tab al tab facendo tab ecco la signorina vi dice tutto quello che potete fare allora di qua la cosa che io invito subito a fare è andare nelle opzioni e nelle opzioni potete modificare ad esempio se la musica vi sembra troppo alta cosa che a me è successa potete abbassare la musica potete abbassare i rumori potete il background audio ad esempio gli uccellini se non li volete li potete abbassare e chi vi parla potete anche abbassare in modo tale da non essere assordati poi qui abbiamo la possibilità di sentire non sentire voci di sentire le voci solo dei favoriti tra gli amici e soltanto gli amici oppure tutti questo può essere importante perché così quando siete in compagnia di altri potete limitare e sentire o nulla se vi disturba oppure solo se ci sono i vostri amici questa è una cosa interessante per certi versi che permettono di cambiare la propria voce cioè quando parlate ad esempio la volete con una tonalità più alta con una tonalità più bassa questo serve un po' per mascherare la voce e io direi che è un po' per noi un po' inutile quindi non so vedete voi anche perché la voce è ad alto pitch cioè è molto acuta strillante e dà anche un po' fastidio e la voce invece basso anche forse sì qui PTT push to talk vuol dire che per parlare dovete fare il push in qualche modo nel credo del tasto centrale del mouse o qualcosa del genere non l'ho provata perché a me diciamo ho disabilito il microfono lo tengo acceso poi qui abbiamo help che è molto importante perché vi indica tutti i tasti che potete prendere avete visto che molti li abbiamo già visti che sono la Q la 1 il 4 vedete che c'è mano sinistra e mano destra le emozioni che è il 3 wave per fare wave insomma c'è per salutare il 4 e l'1 per equipaggiarvi con qualche cosa il tab che stiamo vedendo adesso quindi questi sono le cose dell'help experience vi dice quanto deve essere grande la bolla di privacy che avete attorno a voi e media se volete che la gente quando viene addosso non sparisca mettete off qui vedete quando siete visibili gli amici o meno e questo credo quanto la camera si muove con la testa insomma sono tutte le cosette che direi che potete lasciare più o meno uguale come experience il gameplay qui potete invertire il mouse se per caso siete abituati in maniera diversa altre cosette questo qui credo che serva per togliere praticamente l'icona in alto a destra che vi faceva vedere la picture in picture come eravate comunque direi che la cosa più interessante è la possibilità di controllare il volume ne altre cose allora qui lo vedremo molto presto negli altri video abbiamo il backpack che sono il vostro inventario e quindi qui vedete quali sono i tre oggetti indispensabili che sono i tools che sono la macchina per fare le foto la maker pen che serve per fare come vi ho visto delle scritte ma anche per costruire proprio la building o per scriptare e il feedback tools per fare dei commenti poi i skins sono tutte le cose che che avete nel vostro inventario quindi potete in questo momento equipaggiarvi con alcune di queste cose quindi sono dei paintball insomma delle robette uno scudo un pallone eccetera eccetera potete averlo nel vostro inventario non avete cibo di altra natura non avete niente man mano poi si aggiungeranno quindi questo è il backpack che sarebbe il vostro inventario la stanza in cui siete è questa qua in alto quindi la stanza in cui siete vi dice sono nel dormitorio di E23D e qui c'è tutta una serie di possibilità nel senso che se cambiate qualcosa nella stanza dovete ricordarvi di salvarla lui fa credo un autosalvataggio ogni tanto ma non è è sempre opportuno salvare qualcosa l'ingrenaggio serve per poter definire tutta una serie di cose che adesso per il momento lasciamo perdere quindi sono delle cose importanti la scoreboard dice praticamente quali sono i punteggi che hanno le persone che entrano ci interessano poco quindi questo per controllare le proprietà le permission chi può entrare e chi no questo vale per altre stanze in cui potete mettere il mi piace questo potete mettere nelle favorite per ritrovarle e così via queste sono tutte cose abbastanza classiche quindi this room e backpack abbiamo visto poi abbiamo le persone che conoscete queste che sono il quindi sono tutte le persone che ci sono quindi ad esempio vicino a voi chi c'è non c'è nessuno persone a cui vi siete registrate ma insomma all'inizio siete vuoti poi man mano che farete amicizia si aggiungeranno delle cose i messaggi quindi se qualcuno vi scrive o comunicazione dal sistema qui abbiamo tutti i messaggi privati i chat eventualmente e notifiche e poi potete eventualmente insomma vedere tutto un po' come anche in uspace però qua secondo me è un pochino più pulito tante cose non non ve le faccio neanche vedere perché sono sono associate alla ai giochi e i giochi specifici che si giocano qua non è oggetto di questo di questo video play invece permette di navigare verso altre stanze quindi di cercare altre stanze e vedete che qui ci sono delle escape room ci sono tanti posti dove andare ecco qui la cosa interessante è che quando andate in una stanza vedete che potete andare nella stanza insieme ad altri però potete anche entrare in modalità privata modalità privata è una cosa che io raccomando specie all'inizio in modo tale da potervi studiare la stanza insomma l'ambiente in da soli in solitudine perché a volte andare nei posti pubblici di rec room può essere complicato nel senso che ci sono persone che chiedono amicizia che vi parlano e alcuni sono anche abbastanza non proprio non proprio buono nel senso che possono rompere un po' le scatole rec center è un posto dove andate per conoscere gente challenge è un posto dove andate per guadagnare punti a noi non interessa più di tanto questa cosa quindi poi qui in alto a destra avete l'exit per uscire da rec room quindi direi che a questo punto ecco per tornare e togliere questa videata fate il tab e siete di nuovo da soli con il vostro dormitorio nel prossimo video vedremo invece come cominciare a costruire delle cosette elementari dentro magari non proprio dentro il vostro dormitorio che vedete che c'è non c'è molto spazio vi creerete un posto una specie di garage o posto dove andare e in questo garage si parlerà insomma si faranno si costruirà insieme cioè da soli insieme ad altri le proprie cose grazie a tutti al prossimo